La mia figlia Silvia è stata vittima di un incidente automobilistico e diciamo anche grave. Ha superato i primi mesi dopo l'incidente, con grande difficoltà. Prima è stata in terapia intensiva all'ospedale di Udine e dopo aver superato 20 giorni di coma ha cominciato a aprire gli occhi. Dopo è stata portata in medicina specializzata sempre dell'ospedale di Udine e poi all'ospedale di Udine è rimasta due anni e quattro mesi. Durante questo periodo lei è stata più o meno messa nel reparto dei lungodegenti e necessariamente era seguito dai medici, però le difficoltà c'erano, le difficoltà soprattutto di carattere motorio eccetera eccetera. Dopo questo periodo qua Silvia è stata trasferita nel Gervasutta dove ha fatto sei mesi e dopo sei mesi è andata all'ospedale di Cividale nel reparto dei lungodegenti. Ed è lì che ho saputo dell'esistenza di una clinica in Austria, la clinica di Oxia di Isbruck e ho saputo anche del professor Saltuari Leopoldo che dirige questa clinica che è italiana e di Bolzano, si è stabilito a Isbruck in Austria e dirige questa clinica specializzata e lì è rimasta parecchio tempo, è stata seguita parecchio tempo e i primi benefici li ha ottenuti lì, vai a dire è cominciato a mangiare, è cominciato a essere un po' più mobile, un po' più aperta anche in un certo senso. Da quel momento lì poi è sempre seguita da questi medici austriaci perché non trovavo nel Friuli Venezia Giulia una clinica che sia in grado di affrontare le problematiche di questo caso. E allora io mi sono sempre legato a questa clinica e dunque al professor Saltuari che la seguo ancora. Io comunico con Silvia prima di tutto con lo sguardo, prima di tutto. Lo sguardo per me è il fattore principale per comunicare con Silvia perché tante cose riesco a capirle. Solo vedendo il movimento dei suoi occhi, quando una cosa le piace lei lo manifesta con gli occhi, quando una cosa non le piace necessariamente anche lì lo manifesta con lo sguardo. E dunque questo è molto importante. Poi dopo comunico anche attraverso le reazioni di Silvia perché tante reazioni di Silvia dimostrano la sua serenità. E questo per me è un fattore molto importante. Posso comunicare anche con le reazioni che può avere perché se ha una reazione negativa necessariamente lo manifesta sia con i movimenti del brazzo oppure anche il movimento della testa. Buongiorno Silvia, come va? Bene, no? Ti vedo bene Silvia, tu mi guardi? Sei serena, sei tranquilla? Si vede che stai bene? E quel sorriso lo dimostra, vedi come diciamo sorride, vedegli? Come sorride? Dunque questa è una dimostrazione di come comunico io con lei. Poi dopo necessariamente c'è anche lo sguardo, non c'è la parola perché Silvia non parla, anche se può non c'è le vocali, ma non parla. Ma però se direi ecco vede come mi guarda e guarda lei e come è sorridente. E si vede, è tranquilla. Le racconta storie? Anche quello sì. Abbiamo anche dei libri, soprattutto la signora che la segue legge dei libri anche a Silvia e lei ci interessa però dopo un po' si stanca e allora diciamo è il momento in cui gira lo sguardo, non è più interessato. E la porta anche fuori? Sì sì, quando è bel tempo la portiamo fuori a fare la passeggiata, adesso non possiamo farlo perché ha avuto i giorni scorsi la tosse, anche il cataro, anche diciamo e dunque devo stare attento che non prenda una bronchitina. Siamo andati a Santa Caterina di Uline alla festa di Santa Caterina e là passeggiando, girando abbiamo visto un gallo, un gallo molto bello. e Silvia ha detto alla mamma, sua mamma, mamma comprami questo gallo che mi piace. E diciamo a mia moglie, diciamo subito, ha detto sì sì, te lo compriamo, lo portiamo anche a casa, visto che ti fa tanto piacere, te lo portiamo anche a casa. L'abbiamo portato a casa, con la cesta, con la paglia, il mangiare e tutto. Ed è rimasto a casa nostra per diciamo circa un paio di mesi e dopo purtroppo questo gallo si è messo a volare, è sparito e non l'abbiamo più visto. Ed è rimasto a casa, con la cesta, con la cesta, con la cesta, con la cesta, con la cesta. Grazie. 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 Grazie.